Mi scusi, nazionale italiana e europei dove può arrivare? Da nessuna parte, da nessuna parte. Come mai è così negativo? Ma perché è il sistema che è negativo. Questi qua non possono portarsi appresso tutti i problemi che hanno, scaccio scommesso e compagni, essere lucidi. Non possono. E io sinceramente mi auguro che se ne vadano a casa presto. Un pronostico sulla nazionale e europei, dove può arrivare l'Italia? Ai semifinali. Vabbè, c'è una buona squadra, ce la possono fare. Vincere no, non riesce questa? No, vincere no, non penso, perché ci sono altre squadre più forti. Il giocatore che trascineva l'Italia chi sarà? Mario Balotelli. Quanti gol? Cinque. Mi scusi, una domanda. La nazionale e gli europei quanto arriverà? La nazionale europea, di che cosa? Il pallone? Beh, io penso che arriverà a buon punto. Sì, sì, sì. Può anche vincere? Beh, vincere forse no, però si piazzerà bene. Mi scusi, un pronostico sulla nazionale e gli europei, dove può arrivare? Non dopo giugno. Quindi esce subito? Non so il calendario, ma dovrebbe essere così. Dopo giugno? Non dopo giugno. Che data più o meno? Non mi ricordo le date. E tu cosa dici? Mi chiamo Michael. Forza Italia? No. Milan. L'Italia no? Sì, anche quello. Qual è il giocatore più forte dell'Italia? Cassano. Mi scusi, una domanda. Nazionale degli europei dove può arrivare? Nazionale degli europei. Eh, non li seguo io. Non segue lo sport? No, no. Calcio nulla? Poco. Ti ferà comunque Italia per gli europei? Normale, normale. E quanto arriveremo secondo lei? Eh, dipende dalla squadra, no? Possiamo vincere? Con chi gioca ora l'Italia? Con la Spagna la prima. Ah, con la Spagna. Se ce la fanno è meglio, no? Meglio per tutti? Certo. La vedo una squadra malmessa, troppi infortuni, pochi giocatori di qualità. Il mio pronostico esce subito. Forza Irlanda!